tutti sanno cos'è un chakra chakra è una parola inglese anche cinese chakra è una parola cinese chakra significa qualcuno che ha padroneggiato tutte le dimensioni energetiche dentro di sé sono manifestazioni diverse della stessa cosa non è che ci siano forme diverse di energia manifestazioni diverse è come l'elettricità in questo momento funziona come luce funziona anche come telecamera forse funziona come filtro nel chandra kund la stessa elettricità ha trovato espressioni diverse analogamente nel corpo la stessa energia vitale ha trovato espressioni diverse per via del modo in cui funzionava se tocchi l'elettricità in un certo modo un motore si azionerà se la tocchi in un altro modo la lampada si accenderà il ventilatore girerà qualcosa succederà fondamentalmente per quanto riguarda l'elettricità sta facendo la stessa cosa sì l'elettricità non sa se produce luce o rinfresca l'ambiente o sta potenziando la mia voce l'elettricità non sa queste cose è per via del modo in cui un certo strumento è cablato e progettato che diventa così quindi analogamente la stessa energia scorre ovunque ma per via di come è connessa in luoghi diversi a seconda della connessione genera una manifestazione diversa della vita 114 possiamo dedurlo in multipli 7 è una deduzione è anche una classificazione in ogni classificazione 16 per 7 112 due li lasciamo fuori perché non c'è molto che tu possa fare al riguardo per far fiorire questa pianta possiamo nutrire la radice possiamo tagliare i rami possiamo fare qualcosa qualcosa ma una volta che è fiorita non c'è niente da fare niente da con i fiori analogamente quei due sono come dei fiori se sbocciano non c'è davvero nulla da fare solo goderseli solo 112 con cui lavorare questi 112 si suddividono in sette categorie di 16 ciascuna come diventare padrone di tutte queste cose ma il problema è come ti senti quando sei padrone di tutte queste cose non preoccuparti di come diamine ti senti prima arrivaci no se vuoi salire sulla settima collina c'è un certo livello di stress sulle ginocchia i polmoni e tutto quanto se stai proprio qui e pensi se vado a stare lì sul picco come mi sentirò questo picco è alquanto connesso con l'essere un chakreshwara perché qualcuno ci ha lasciato il proprio corpo attraverso tutti e setti chakra quindi se ti siedi proprio qui e pensi anche fisicamente a come ci si sente lassù ti avvicinerai minimamente a quell'esperienza chiedo devi passare attraverso i dolori non è così è doloroso se non sei in forma e se sei in forma è una gioia arrampicarsi quindi la cosa migliore da fare è metterti in forma così che tu possa arrampicarti con gioia altrimenti potresti arrampicarti soffrendo e tempo di arrivare su potresti soffrire così tanto da non fare esperienza di nulla vuoi solo scendere molte persone sono così vengono fino al kailash e tutto ciò che vogliono è tornare indietro e trovare una stanza d'albergo dove poter dormire e andare di corpo in un posto adeguato veramente non sto scherzando iniziano a fantasticare su come useranno i bagni anche se forniamo loro i bagni più scenografici al mondo quindi prima di andarci non fantasticare non serve a nulla non pensare nemmeno a tutta questa storia di Chakreshwara e quant'altro devi guardare solo questo semplice sai diciamo che prendi questo fiore vuoi lanciarlo a lui andrà lì o volerà da qualche altra parte questa è una domanda vedi per ogni movimento se questo deve toccare la punta del tuo naso toccherà qui o andrà così questa è la domanda dico qualcosa di semplice come muovere la tua mano guardare, osservare, vedere puoi fare ogni cosa con un certo livello di precisione se porti questa precisione in ogni cosa che fai lentamente stai acquisendo il controllo su questo fisicamente dimenticate dell'energia prima fisicamente lo stesso corpo fisico vola dappertutto non sai dove vada no è per questo che ti abbiamo chiesto di fare Hatha Yoga al mattino per ottenere la precisione dopo aver fatto Suri a Namaskar per tre anni possiamo ancora trovare una dozzina di errori minimo perché ottenere la precisione non è facile richiede molto lavoro molto lavoro se introduci questo aspetto nella tua attività pian piano acquisisci padronanza sul sistema prima sulla parte volontaria poi su quell'involontaria poi sull'energia poi sull'intelligenza poi sul pensiero l'emozione ogni cosa seduto qui se mi chiedi quando divento il padrone dell'universo come mi sentirò se arrivi a metà strada potresti sentirti come Alessandro Magno voleva conquistare il mondo e sapere come ci si sente ne conquistò la metà e si sentì malissimo quindi se raggiungi la padronanza di tre chakra e mezzo potresti sentirti malissimo tu credi? tu credi? sto dicendo non è così che funziona non sprecare il tuo tempo con questo tipo di cose ti dirò conosci il Chakreshwara ci si sente così 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 cosa ne sai? solo tempo perso e fantasticherai su qualcosa che non conosci è inutile semplicemente vedi quali sono le cose di cui non hai il controllo vedi se riesci a scegliere un punto banale un semplice punto su questo pavimento è semplicemente guardalo qualcuno dice serpente comunque non ti muovi qualunque cosa accada sei lì e basta provaci ecco perché ti abbiamo insegnato la meditazione nel bel mezzo della giornata quando la gente si sposta fa rumore c'è lavoro da fare e tutto ma non importa tutti parlano parlano di te no 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 parlano di qualsiasi cosa questo è acquisire il controllo più controllo acquisisci su te stesso più cose puoi fare senza sforzo è così vedi controllo non significa limite controllo significa che infrange delle limitazioni diciamo che vai in bici più controllo hai più numeri puoi fare sulla bici non è così? se hai molto controllo puoi pedalare e mandare messaggi non provare a farlo se ci provi in Ashram ti porteremo via la bici e il telefono ma più controllo hai più libertà ti dà non è così? più controllo hai su questo e più libertà ti dà meno controllo hai più attaccamenti hai e meno libertà hai quindi invece di pensare al monte Everest per cominciare meglio salire e scendere i gradini dell'Isha Yoga Center tu questo ragazzo dovete metterlo di turno al surya su e giù domani devi svuotare la vasca ti daremo due secchi funzionerà credimi al giorno d'oggi al giorno d'oggi non possiamo sai i guru sono menomati perché non puoi usare alcun metodo che funzioni qualcuno si appellerà ai diritti umani non puoi fare ciò che serve devi fare cose da gattino non puoi fare ciò che serve direttamente devi fare come piace a loro credimi se hai figli se avessi fatto tutto come piace a loro sarebbero stati assurdamente magri sì o no da piccoli li hai nutriti un po' con la forza li hai ingannati hai mentito loro hai fatto qualsiasi cosa per fargli andar giù un po' di roba non è così sì o no lo hai fatto o no altrimenti non hai mai cresciuto un figlio credimi analogamente a un guru dovrebbe essere concesso quel po' di latitudine se tutto deve essere conforme a una norma allora piccolo guru paralizzato sai perché se sai già cosa farà con te e hai già calcolato cosa succederà cosa non succederà non funziona così arriverà sempre in un modo che non avevi mai immaginato fosse possibile e siccome le persone hanno dei piani prestabiliti nella mente quando le cose arrivano nel modo che non si aspettavano le lasceranno passare oggi la mente moderna ha raggiunto questo punto che se accendi una lampada e gliela fai comparire davanti devi dire loro questa è una lampada altrimenti la guarderanno così no no nessuno mi ha detto che arrivava una lampada quindi non sta arrivando devi dire loro la lampada sta arrivando tra quanti minuti tra tre minuti tre minuti esatti oh il mio orologio dice questo il mio cellulare dice questo quali tre minuti se fossi venuto qui centocinquanta anni fa te l'avrei suonata se avessi fatto una domanda simile se avessi chiesto se divento un chakreshwara che effetto fa significa quando non c'era alcun attivista dei diritti umani se fossi venuto te le avrei davvero suonate ma ora non posso quando tutti i 114 chakra sono sbocciati ti senti come